Musica Sono emozionato perché poi si sa che andare sul palco dell'Ariston è sempre un'emozione grandissima, però ci prepariamo a questa avventura. Se volete ammirare da vicino i costumi di Federico Falasca non potete mancare il 13 aprile del 2013. E il? 27 aprile del 2013. Dove? A Roma. E il 13?